Sei un tipo rock? Ascolta! Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Festival delle Band Emergenti, voluto fortemente dal Municipio Roma 17 e dall'Associazione Culturale I Cerchi Magici. Che cosa aspetti ad iscriverti? Avrai l'opportunità di esibirti nei locali Fonclea, Sciamano e Stil Novo. Potrai finalmente dimostrare il tuo vero talento artistico. Scarica la modulistica dal sito www.festivalbandemergenti.it per info 06 97 84 10 82. Ah, dimenticavo! L'iscrizione è gratuita!